La cosa più importante della vita sarà sempre la famiglia. Le persone che sono qui, adesso. Ecco cosa è reale. Pronto? Dominic Toretto, tu non mi conosci. Ma mi conoscerai. Chi è stato? Ricordi Owen Shoe. Questo è suo fratello. È un killer delle forze speciali. Hanno creato un mostro. I peccati di Londra ci hanno seguito fino a casa. Ci danno la caccia. Shoe vive in un mondo che non gioca secondo le vostre regole. E che ti piaccia o no, tu e i tuoi amici ora ne fate parte. Io non ho amici. Ho una famiglia. Questa volta il punto non è solo essere veloci. Qualcuno mi può dire che cosa dovremmo fare? Ehi Roman, una boccata d'aria fresca? Pensavi che non ci fosse niente di meglio, eh? Abbiamo dei mercenari alle costole così pieni di armi da distruggere una nazione. E con questo la follia passa a tutt'altro livello. Qual è il piano, Tom? Un'ultima corsa. Oh, io non guardo. E' No, 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 no. No, 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 no.